Prestiti per un valore che va dai 15 ai 20 miliardi di dollari, cioè tra i 11 e i 15 miliardi di euro. La notizia è arrivata direttamente per bocca del ministro delle finanze ucraino Oleksandr Shlapak. Kiev sta negoziando con il Fondo Monetario Internazionale un pacchetto di aiuti per salvare la sua disastrata economia. Anni di mala gestione, a cui ha fatto seguito il terremoto politico degli ultimi mesi, hanno contribuito a frenare la crescita dell'Ucraina e per quest'anno il ministero prevede una contrazione del 3%. Grazie.